Centro Epicoltorione, siamo a questo nazionale 5 stelle, con noi Jane Richard, come mai non sei a Shanghai? Perché purtroppo aveva un cavallo, due cavalli con febbre che dovevano salire sull'aereo e il veterinario ha deciso che così non possono affrontare un lungo viaggio e devo dire che ha ragione perché sono dei animali preziosi che ci tengo tanto e spero poter ancora fare tanto quest'anno con loro. Hai visto il percorso di questo Gran Premio? L'hai camminato prima? Sì, perché mio marito sta montando tre cavalli di futuro che speriamo un giorno vederli sull'alto livello. È un bellissimo Gran Premio qua a Tortona e vediamo chi vincerà e speriamo che ci porta fortuna uno dei nostri cavalli. Obiettivo di quest'anno? Continui con il Global? Sì, l'obiettivo è di fare tutto il Global e poi vedremo e speriamo di avere tanti buoni risultati, che i cavalli rimangano sano e in forma e vediamo fin dove arriviamo, forse anche una volta il sogno degli Olimpiadi. Grazie mille. Grazie a voi.